Non sarà la Audanta, Fuji nel 76, ma a modo suo quello che si profila nel CIR 2014 è un rush finale di rara bellezza e incertezza. La differenza poi è che si tratterà di un duello allargato a tre contendenti, li citiamo in ordine di classifica, Scandola, Basso e Andreucci. Il teatro epico, almeno si spera, del campionato italiano Rally 2014 saranno le strade del 32esimo Duevalli, Interland e di Verona. Una corsa che tra l'altro torna a far parte del campionato dopo oltre 20 anni. Sette mesi, da marzo e dal Rally del Ciocco fino all'Adriatico di poche settimane fa, non sono bastati a delineare in modo chiaro la situazione che rimane intricata, ma non più di tanto. La classifica dice Scandola 82, Basso 76, Andreucci 75, ma il pilota veronese, che dunque correrà sulle strade di casa, deve scartare 8 punti, per cui si può rileggere così, Basso 76, Andreucci 75, Scandola 74. E su quest'ultimo pesa anche la sentenza subiudice del San Marino e altri 4 punti sospesi. Ma dato per appurato che da lì non accada nulla, rimane la certezza che chi vincerà il Duevalli sarà anche il nuovo campione italiano. Un finale dunque al Cardiopalma per tre piloti che durante la stagione sono stati gli annunciati assoluti protagonisti. Si comincia venerdì sera con la breve prova spettacolo delle Torricelle. Sarà la tappa di sabato con otto tratti cronometrati per oltre 100 chilometri a fare la classifica in attesa del doppio erbezzo di domenica mattina. L'arrivo domenica alle 12.40 in piazza Brava Verona. Due valli importanti anche per il giovane Luca Panzani in lotta con Albertini per il secondo posto nel campionato junior e con Carella per il trofeo Renault Twingo. Rivoluziona la macchina perché...